Fassino, sul Jobs Act lei ha dichiarato che Charenzi ha preso in giro gli italiani, perché? No, in particolare i precari, perché la part destruence, quella che riguarda l'arretramento delle condizioni di lavoro di milioni di lavoratori dipendenti, è chiara ed efficace. Invece non c'è il miglioramento della condizione dei lavoratori precari, perché i contratti precari rimangono tutti quelli che sono. I co-co-co che Renzi dice di aver abolito sono finiti da anni e non c'è nessun allargamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori precari. Quindi è stata un'operazione propagandistica per quanto riguarda i precari, drammaticamente reale per quanto riguarda gli altri lavoratori.